Vi volevo dire qualche cosa sulle funzioni di importazione, backup e ripristino. Sono queste tre, diciamo, le parole chiave che avete. Perché ve lo spiego? Perché è molto importante, soprattutto adesso, che abbiamo un Moodle nuovo, molto meglio funzionante del vecchio, ma noi potremo avere... Allora, se voi non avete nulla sul vecchio, non ci sono problemi, non vi servono, cioè, vi servono relativamente queste versioni. Vi potranno servire in futuro, ma se avete invece materiale sul Moodle vecchio, dovete assolutamente sapere come importarlo nel Moodle nuovo. Però questa funzione è utile anche perché se io volessi condividere con altri colleghi delle verifiche, ad esempio, o delle lezioni, ne facciamo una a testa, una la faccio io, una la fai tu e poi le condividiamo, bisogna spostarle da un docente all'altro. E quindi, questo vale anche per i test, per le prove adesso, e quindi, diciamo, bisogna ricorrere alla funzione. Adesso vediamo backup e ripristino. Allora, andiamo per ordine. Andiamo per ordine e partiamo dal nostro... Vado su presentazione e partiamo dal vecchio Moodle, perché è quello da cui partiamo eventualmente per fare il backup. Allora, il vecchio Moodle, beh, questo non è neanche più quello vecchio. Ecco, questo qua dovrebbe essere quello vecchio. Ci sono le mie classi di quest'anno. Considerate che io posso anche andare a recuperare le classi degli anni passati. posso recuperare anche le classi degli anni passati, perché nel momento in cui io vado su Moodle, voi sapete che qui io adesso ho evidenziato le mie di quest'anno, ma se vado qua, no? Qua a destra, ho tutti i miei corsi degli anni passati. Quindi, se io voglio recuperare un corso di tre anni fa, perché avevo fatto una verifica che mi era piaciuta, perché avevo inserito del materiale che voglio recuperare, posso benissimo andare anche negli anni passati. Andiamo per ordine. Allora, guardate, quando io sono nella dashboard, quindi la pagina iniziale, nei menu di destra non compare la voce backup. Per poter fare il backup, devo andare all'interno di un corso, quindi io adesso sono entrato in seconda H, e allora vedete che cambiano i menu laterali, dashboard, benissimo, amministrazione. Ecco, vedete, in amministrazione compare la voce, le tre voci, backup, ripristino, importa. Allora, vi dico subito la funzione importa, che è quella più semplice, ma è quella che possiamo applicare solo tra corsi nostri all'interno dello stesso sito, cioè dello stesso Moodle. Facciamo l'esempio. Non abbiamo il Moodle nuovo, abbiamo solo il vecchio. Io l'anno scorso avevo una quinta, quest'anno ho un'altra quinta, voglio importare lezioni, test, materiali che avevo usato l'anno scorso in quinta, nella nuova quinta di quest'anno. Allora devo usare la funzione importa. vado a selezionare la classe dove voglio importare. Io adesso sono in seconda H, posso cambiare classe. Io in seconda H adesso voglio importare del materiale. Benissimo. Allora, sono nella seconda H, vado su Importa. Mi sentite bene o metto le cuffiette? Mi sentite? Sì, sì, benissimo. Non c'è un ritorno? Ok. Allora, guardate, una volta che ho cliccato su Importa, viene fuori questa pagina, in cui mi si dovrebbero mostrare tutti i miei corsi, dal primo del, non mi ricordo che corso era, del 2016, all'ultimo di quest'anno. Il problema, l'unico problema è questo, che non si vedono tutti, e l'unico modo per poterli vedere è andare a dargli qualche indicazione. Vedete, non ci sono tutti, perché te ne fa vedere al massimo 10. Io so che voglio importare un corso dell'anno scorso, allora faccio 2019 barra 2020, cerca, e a questo punto vedete che ci sono soli i corsi che avevo l'anno scorso, quindi ci stanno tutti, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, impossibile, vabbè, comunque non lo so. Ci sono questi corsi qua. Benissimo, Allora, a questo punto io scelgo, ah sì, quello che voglio importare è il corso di quinta B, letteratura italiana. Benissimo, allora vado a cliccare sul corso che voglio importare. Posso importare anche parzialmente questo corso, però devo andare a cliccare sul corso che voglio importare. Continua. Ecco, adesso compare una lunga sequela di indicazioni che mi chiedono che cosa voglio importare. Se lascio tutto spuntato, importo tutto il corso. Quindi, ad esempio, io importerò, se non tolgo nessuna spunta, tutto quello che è possibile importare da quel corso lì a quello nuovo. sennò posso togliere qualche cosa. Ad esempio, il calendario non l'ho usato, va bene, oppure non mi interessa importare gli eventi del calendario, li tolgo, non è che ci siano problemi. Insomma, non avevo messo blocchi, non voglio importare i blocchi, non voglio importare i filtri. Invece, ad esempio, il deposito delle domande, sì, perché poi me lo ritrovo nel nuovo, eccetera, eccetera. Va bene. Vado avanti, non è finita. Ecco, adesso mi compaiono tutte le attività di quel corso. Io in quel corso lì non avevo fatto niente, e quindi non ho nulla. Però, vedete, qua ci sono tutti i vari argomenti che io ho svolto. Ho scelto proprio quello sbagliato, perché non c'è nulla. Ma, va bene, non importa. Vedete che ci sono gli argomenti. Quando qui ci sarebbe, che ne so, Italo Svevo, eccetera, eccetera, Eugenio Montale, eccetera, eccetera. Io li voglio importare tutti, oppure voglio importare solo i primi due, allora tolgo la spunta dagli altri. Va bene. Vado avanti. E adesso mi fa il riepilogo di quello che ho scelto di importare, così posso dare un'ultima verifica. Se non mi va bene perché ho sbagliato qualcosa, torno indietro. Se no, vado avanti. Adesso io non vado avanti, ma lui mi esegue l'importazione. Cioè, che cosa vuol dire? Mi inserisce argomento per argomento tutto quello che gli ho chiesto di importare. Quindi mette nell'argomento 1, senza cancellare i miei, senza cancellare eventuali miei argomenti nuovi nel corso in cui vado a importare. Quindi quello non me lo va a cancellare. Però nell'argomento 1 del corso dove vado a importare, aggiungerà gli argomenti che sono nell'argomento 1, il materiale che è nell'argomento 1, e via dicendo. Adesso faccio annulla. Ecco qua. Quindi io adesso, se volete, ve lo faccio fin tutto il passaggio, ma è così. È così. Se volete ve lo faccio tutto, nel senso che vado, se c'è un corso vuoto, vi faccio vedere un corso vuoto. Ma mi sa di no. Quest'anno corsi vuoti non ne ho. Perché l'anno scorso, forse la terza, no, neanche, non c'è. Vabbè, a parte che non succede nulla, ma comunque sia, ecco. Allora, se avete capito, e avete preso nota, non vi faccio vedere l'ultimo passaggio. Nell'ultimo passaggio, non succede, cioè, succede quello che deve succedere, nel senso che io poi, quando vado a riaprire quel corso lì, mi trovo tutte le importazioni fatte. Ecco, ma non c'è altro. Noi non dobbiamo fare altro. Fa tutto lui. Fa tutto il sistema. Questo, se avete capito, e avete seguito, è molto semplice, ma mi serve. Serve soltanto per importare, come vi ripeto, corsi all'interno dello stesso Moodle mio, e dello stesso sistema Moodle che sto utilizzando, no? E non è quello che ci serve per, ad esempio, importare una cosa che ho fatto l'anno scorso sul Moodle nuovo, o anche una cosa che ha fatto Fabrizia De Bernardi e che ha condiviso con me e che io devo importare sul mio corso, perché lei ha fatto una bella lezione di fisica che voglio far vedere anch'io ai miei studenti. O una verifica. Fabrizia. Ma una cosa, scusa, metti che io voglio portarmi dietro tutto il deposito domande, no? Da una classe. Però non voglio ancora, cioè non voglio importare i test già fatti perché i ragazzi non li vedano. Cioè, quando sono nel deposito domande i ragazzi non le vedono, tutto le... No, ma tu, ma no, tu devi fare... Allora, tu non importi il deposito domande, importi tutto o importi il test che ti serve. Quando tu lo importi, no? Loro non lo vedono, nel senso che se tu lo vai a mettere nascosto nel corso da cui lo importi, lo importi già nascosto. Quindi i ragazzi non lo vedono. E comunque sarebbe una frazione di secondo perché tu nel momento in cui l'hai importato... Devo fare io nascosto? Cioè, devo renderlo nascosto? Fai nascosto. Cioè, se lo fai prima di importarlo già dal corso da cui fai l'importazione, lo ritrovi già nascosto. Se no, vuol dire che in quella frazione di secondo che l'hai importato e vai sulla pagina e clicchi, se un ragazzo è lì pronto a scaricarlo in un secondo, è veramente un caso. Cioè, vuol dire che Dio ha voluto che copiasse. Ecco, cioè, nel senso che non... Ok, ma senti un po' se invece io non voglio proprio il test già fatto. Cioè, io voglio un deposito domande dove metto dentro, che ne so, tutte le domande di probabilità e poi i test li faccio nuovi, estraendo dal deposito domande. Guarda, non ho mai provato a vedere se è possibile importare solo il deposito domande. Forse sì. Nelle varie spunte che c'erano prima, mi sembra di... No, 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 ma quello lì vuol dire semplicemente che tu importi il deposito... Sì, però in questo punto ti convenga, sinceramente. Perché una volta che hai il test già pronto, basta che sposti le domande e le ritocchi, ma ce l'hai già pronte. Cioè... Era per farle poi il test random in modo che tutti ce l'abbiano un po' diverso. Ma tanto random è un'altra funzione, quella lì è automatica. Cioè, è automatica, una volta che hai fatto il test, tu spunti la funzione random e lui te lo fa random. No, 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 non ci siamo capiti, non solo l'ordine. Cioè, io voglio che ognuno abbia domande diverse. C'è una possibilità di fare un test in cui il sistema prende dal deposito... Ah, ok, ok. Hai capito? E quindi... Allora, ammesso che non si possa fare, facciamo l'ipotesi, ammesso che non si possa fare, come dici tu, ok? Andiamo nell'ipotesi peggiore. Non importa, tu importi il test. Quando l'hai importato, lo cancelli. Le domande, nelle domande, ti rimangono. Ok? Tu fai un altro test, poi cancelli quello precedente e sei a posto. Se proprio così ce l'hai lì, non c'è problema. Comunque non c'è problema nel senso che tu lo puoi cancellare, ma le domande non vengono cancellate dal deposito. Sì, sì, ok, ok. Ma forse Luisa si ricorda cosa ha detto una volta a Guarnieri, comunque ne parleremo. Per l'importazione? Sì, forse si può fare solo il deposito delle domande. Sì, sì, io l'ho già fatto, io l'ho fatto al contrario, l'ho fatto dal Moodle nuovo al Moodle vecchio, perché mi sono definite le domande sul Moodle vecchio e poi me le sono importate nel Moodle nuovo, cioè no, scusami, nel Moodle nuovo perché funzionava e le ho importate poi per preparare una verifica sul Moodle vecchio. e vai su delle domande, anzi, puoi addirittura se vuoi anche soltanto esportare una categoria. Sì, sì, ho solo una scelta, una selezione. Sì, ti selezioni tu quello che vuoi importare, esportare, poi d'altra parte dell'importo. Ma parti sempre da backup, da ripristino? No, no, io ho esportato e importato, in realtà non dal backup, cioè non ho fatto il backup, ho fatto solo l'esportazione di una parte che mi serve. Ah, vabbè, sì, sì, vabbè, ok, ok. Però non tramite il backup. Sì, certo, il backup ti fa il backup di tutti. Ah, sì, sì, però appunto... Però se vuoi selezionare solo alcune cose puoi farlo così. Sì, sì, va bene, allora vai in delle domande e fai esporta. Certo, fai esporta, ma Carlo, adesso forse tu ci parli di questo, perché io ricordo che anni fa, poi io da un anno in anno mi dimentico, avevo, ho salvato sul mio computer dei test già pronti facendo un'altra funzione. Cioè, io ho salvato... Sì, adesso ve la faccio vedere. Adesso ve la faccio vedere.